buongiorno ragazzi ben ritrovati oggi andremo a studiare nel dettaglio quella che è la respirazione diaframmatica per prima cosa andremo a sederci comodamente su una sedia i piedi devono essere bene appoggiati al pavimento separati ad altezza a fianchi le braccia in una maniera rilassata le portiamo all'altezza della pancia le spalle il collo e le braccia devono essere privi di tensione inspirare l'aria ed espirarla cercando di indirizzarla verso l'addome e le costole nella fase di apprendimento l'esercizio deve essere fatto in posizione seduta solo successivamente potrete farlo da in piedi oppure su pini con un guanciale sotto le ginocchia oppure anche in posizione laterale con le ginocchia leggermente piegate per essere più comodi